screen perché siamo arrivati in buona sostanza all'ultimo talk della giornata degli O2 Days 2020 e questo talk viene tenuto da Marco Marchiori che è un altro degli diciamo dei membri storici della nostra associazione e io ricordo di averlo incontrato la prima volta a Padova mentre dibatteva con il nostro Piero Cecchi sempre in tema di localizzazione e contabilità italiana Marco ci parlerà di delle novità che ci sono legate alla fatturazione elettronica come sapete è cambiato il tracciato per cui insomma serviamo con interesse il prossimo e ultimo talk buonasera a tutti parliamo ora delle nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica la fatturazione elettronica appunto ha avuto delle nuove specifiche tecniche che vengono applicate a partire dal primo di ottobre in questo periodo siamo in un regime transitorio in cui per tre mesi fino al 31 dicembre del 2020 le nuove specifiche tecniche convivono con quelle vecchie con quelle già in vigore prima prima di ottobre con questa presentazione ho intenzione di da una parte spiegare il senso delle innovazioni che sono state introdotte e dall'altra mi concentrerei semplicemente su alcuni problemi prevedibili problemi di applicazioni di nodo senza descrivere tutte tutte le possibili tutte le possibili applicazioni direi che possiamo passare a vedere intanto il perché sono state emanate allora le specifiche vengono emanate non solo per avere maggiori informazioni nella fattura elettronica ma perché l'intento dell'amministrazione finanziaria italiana è quello di arrivare in tempi abbastanza brevi a produrre delle dichiarazioni IVA precompilate per i contribuenti e molto probabilmente questo si accompagnerà con la tenuta sempre da parte dell'amministrazione finanziaria italiana dei registri di IVA o di qualcosa di simile dei contribuenti delle imprese italiane dei soggetti IVA italiani questo vuol dire che ci sarà un po' il problema di allineare tutti i dati presenti presso i contribuenti rispetto a quelli che l'amministrazione finanziaria tiene in relazione a queste novità che ci saranno passando a definire e ridefinire le novità della fatturazione elettronica abbiamo detto che la fatturazione elettronica dovendo un po' predeterminare le dichiarazioni comincia ad essere interessata da maggiori valori quindi per tre elementi specialmente della fattura elettronica sono stati stabiliti maggiori possibili valori per i tipi documento passiamo da sette possibili tipi documento a 24 possibili tipi documento per le nature passiamo da 6 a 22 per i tipi di ritenuta passiamo da 2 a 6 tipi di ritenuta direi che possiamo analizzare come dicevo le cose che ci potrebbero interessare maggiormente e o che gli utenti potrebbero richiedere più frequentemente andiamo al tipo documento e tipo documento ha una funzione di classificare la fattura elettronica chi ha lavorato finora con la fatturazione elettronica sicuramente ha avuto a che fare maggiormente con tipi di documento td 01 fattura td 04 note di credito è prevedibile che dei 24 tipi documento nuovi complessivi di quelli che potrebbero le novità potrebbero riguardare l'uso del td 9 td 24 con il quale amministrazione finanziaria vuole distinguere le fatture differite con utilizzo di documento di trasporto rispetto alle altre td 25 poi è un altro tipo che con cui potremmo che potremmo incontrare o dovere mettere abbastanza presto che sono le cessioni le triangolazioni cessioni effettuate da cessionare confronto il soggetto terzo per il tramite precedente che noi chiamiamo col termine inglese drop shipping sui tipi documento sappiamo non c'è molto da dire in termini di manutenzione nel senso che c'è in configurazione della contabilità di odù abbiamo abbiamo la previsione dei tipi documento la cosa probabilmente più ragionevole da fare è di stabilire per le nostre controparti quando sappiamo che fanno uso di determinati tipi di documento stabilire per le nostre controparti già la ecco in questo punto si definiscono già la preferenza per un determinato tipo documento in modo che poi con l'importazione della fattura con l'importazione della fattura adesso la vediamo il tipo documento rimanga correttamente classificato prendiamo per esempio questa fattura la salviamo andiamo a vederla e andiamo a vederla e vedremo che molto probabilmente ecco in questo punto visualizziamo un tipo documento 24 passiamo all'importazione della fattura elettronica e il nostro sistema normalmente per tramite della configurazione del fornitore ha classificato il documento sui tipi documento appunto abbiamo detto che il loro utilizzo è prevalentemente facoltativo ce ne sono un paio di che possiamo considerare come obbligatori diretti di 20 che è quello che sono le autofatture con cui il contribuente regolarizza il fatto che un fornitore non gli ha fatto la fattura e td 21 che è il tipo che si utilizza da parte dell'esportatore abituale per regolarizzare i casi in cui ha ecceduto nell'utilizzo del plafond non mi soffermerei su questo una cosa invece che potrebbe capitare che potrebbe riguardarci sono i nuovi tipi che chiamerei integrazione cioè tutte le volte in cui contribuente deve integrare la fattura cosa significa integrare significa che un contribuente riceve un documento senza debito di iva ed è tenuto per legge a rilevare di norma l'integrazione è la rilevazione di norma di un iva a debito e un iva a credito allora nei casi in cui questa integrazione che ha come come effetto appunto quello di rilevare di rilevare due volte l'iva nei due registri vendite acquisti nei casi in cui il contribuente debba o voglia dare direttamente evidenza all'amministrazione finanziaria ci sono questi tipi di documento che vanno dal 16 al 19 questi tipi di documento non sono dei veri documenti aziendali business document come li chiamiamo ma appunto sono dei dei documenti che segnalano un iva ed erano già stati previsti senza però una specifica classificazione dalla dall'agenzia delle entrate si dice che attraverso questo lo sentiremo dire più volte che attraverso questi tipi di documento si evita lo spesometro perché come sappiamo o lo spesometro o esterometro recentemente cioè tutti i documenti che non passano per lo sdi devono essere comunicati all'amministrazione attraverso la cosiddetta comunicazione dati fatture o esterometro l'utilizzo di questi tipi di documento ci consente invece consentirà il contribuente che vuole dare immediata comunicazione e quindi all'amministrazione finanziaria di farlo senza quindi poi avere l'obbligo di comunicare i dati tutti in una volta con la comunicazione dati fatture e quindi forse questa è la novità più più rilevante che potrà venire richiesta più di frequente che poi vedremo guardando le reverse charge passiamo all'altro elemento pesantemente toccato dalla dalla riforma cioè la natura dell'imposta la natura dell'imposta sono i casi in cui c'è un documento senza debito dell'imposta e quindi l'amministrazione vuole saperne i motivi quindi la natura e la descrizione del motivo per cui non è stata debitata l'imposta e la nostra la nostra amministrazione ha previsto di dettagliare le vecchie nature n2 n3 n6 portando il totale delle nature imposte da 6 a 22 dove sono previste le nature delle imposte in odoo sono previste come immagino molti di voi sapranno nella configurazione delle imposte e questa è la parte direi più più delicata da configurare perché da questa configurazione poi diventa diventerà più facile più difficoltoso poi la compilazione dei registri iva abbiamo quindi le nature dell'imposta in alcuni casi non cambiano in altri casi sono cambiate come per esempio nel caso della natura n2 che descrive le operazioni escluse da iva queste operazioni vengono suddivise in due le operazioni escluse per carenza di requisito di territorialità se abbiamo contribuenti italiano questo caso abbastanza limitato e si limita alla parte ai casi in cui vi ho messo un esempio servizio generico risorso oggetto extra web quindi esclusa iva n2.1 ma un caso molto più frequente nelle aziende è il caso per esempio del contribuente forfettario che è escluso dalla legge 194 e abbiamo qui la nostra classificazione che diventerà n 2.2 non c'è molto da dire appunto se non che c'è la maggior parte delle nostre dei nostri documenti e delle nostre codici iva passerà n 2.2 una classificazione più dettagliata è prevista anche per tutti i casi di esportazione ma anche questi sono per lo più fatture di vendita per lo più fatture di vendita quindi in questo caso la natura n 3 che descrive operazioni imponibili diventa n 3.1 n 3.2 fino a n 3.6 e la cosa a cui dovremmo fare abbastanza attenzione sarà distinguere fin da subito le esportazioni articolo 8 di pr 633 articolo 8 primo comma molto frequentemente rispetto alle alle operazioni con dichiarazione d'intento 3 esportatori abituali su questo punto sembra esserci molta attenzione da parte dell'amministrazione finanziaria passiamo poi a a descrivere la natura 6 natura 6 sono operazioni reverse charge quindi ricapitolando avremo un fornitore che fattura senza debitare l'iva e un cliente che è normalmente tenuto sempre nel caso di reverse charge ad integrare l'iva vedete qua che abbiamo 9 possibili tipi di reverse charge la meccanica è sempre la stessa nella sostanza dobbiamo integrare la fattura con una doppia scrittura di iva molto sappiamo tutti che tutti sappiamo i contabili sanno che il restaggio si distinguerà in interno quando si fa per alcuni tipologie di operazioni fatte dentro il territorio dello stato rispetto a quello esterno come dicevo la meccanica è più o meno la stessa quando si riceve la fattura in reverse charge noi abbiamo una ormai una procedura abbastanza consolidata che gravita su un documento di autofattura quello che è importante per l'amministrazione è che ci sia appunto questa integrazione e quindi nella sostanza sappiamo che appunto la charge interno riguarda pulizia parti e in questo caso faremo le operazioni di integrazione come facciamo facciamo l'importazione della fattura l'importazione della fattura e normalmente normalmente quindi abbiamo la nostra fattura di pulizie che importiamo nel sistema e il sistema automaticamente ci produrrà ci produrrà un documento che nel nostro caso può essere un'autofattura un documento per integrare per integrare l'iva molto brevemente sappiamo che noi dalla fattura di acquisto in questo caso la fattura 10 possiamo saltare direttamente alla corrispondente autofattura che integra l'imposta volendo ci saranno sicuramente dei temi di configurazione anche dovremmo fare un po' attenzione a cosa dirà a cosa dirà l'amministrazione finanziaria in ogni caso la nostra a questa fattura elettronica ritornando a quello che si diceva prima a proposito dell'integrazione potremmo emettere un documento di di integrazione dell'iva che a questo punto andiamo a vederlo avrà una tipologia che determiniamo nel nostro caso vedete un td 16 e che potremmo inviare all'amministrazione finanziaria evitando appunto evitando altri documenti comunicando subito io vi ho fatto vedere il procedimento per l'interno per l'esterno è lo stesso ci sarà evidentemente da configurare correttamente il sistema per avere questo risultato quindi per gestire anche i nuovi tipi di documento di inversione ultima cosa è stata prevista la ritenuta in asarco tra quelle classificate non c'è molto da dire nel senso che noi faremo il nostro solito procedimento di importazione delle nostre fatture e ci troveremo nel caso di fatture di fatture agenti ci troveremo tra le ritenute la nostra ritenuta in asarco è già classificata questo non c'è molto da specificare ritornando ritornando al tema diciamo della della nostra presentazione quello che sarà davvero davvero decisivo come ripeto sarà la corretta configurazione delle imposte la impostazione che io mi sento di suggerire anche perché se facciamo una breve moltiplicazione delle casistiche vediamo quante casistiche potremmo potremmo astrettamente prevedere quello che invece il consulente funzionale sarà tenuto a fare sarà di analizzare bene la gestione del cliente per prevedere configurare correttamente i tipi di imposta che utilizza e essenzialmente quelli io concluderei qui la presentazione vi ringrazio e rimanderei agli interventi se avete delle domande ciao a tutti eccoci qua ciao marco non sento il tuo audio prova a vedere il microfono si attivo mi sentite adesso si forte come va tutto bene 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 dai ci rivediamo dopo un bel po di tempo io e te no? beh ci rivediamo in questa sede ma comunque siamo comunque sempre in contatto allora marco marchiori è consulente funzionale che sta nel nostro meraviglioso mondo dall'inizio praticamente dagli albori quindi anche tu hai seguito tutte le evoluzioni e anche le involuzioni del nostro bene amato diciamo che il talk è sicuramente di interesse visto e considerato che la fatturazione elettronica ha cambiato un po' le carte in tavola a tutti perché poi ci siamo dovuti adaltare l'anno scorso già per permettere di poter fatturare ai nostri clienti di ricevere le fatture allora prima di fare qualche domanda no ai margini diciamo di questo discorso tu lo repudi un sistema valido quello che è stato messo in piedi dal dallo stato italiano quello della fatturazione elettronica beh io personalmente sono tra i critici nel senso che ammetto ammetto che la che la fatturazione elettronica ha avuto qualche effetto interessante però non ritengo ritengo che la scelta è una domanda che non mi aspettavo eh adesso devo un attimo comunque eh ritengo che la che la scelta della fatturazione elettronica attraverso un'unica piattaforma statale eh se da una parte ha dato una spinta ehm alla alla dematerializzazione quindi da questo punto di vista ha dato degli effetti positivi dall'altra la scelta che ha fatto lo stato italiano soprattutto se confrontata con quella di altre nazioni in particolare con l'Europa sia eh sia un po' troppo un po' troppo come dire statalista un po' troppo e in fondo anche poco libera per esempio il fatto che siano rigidamente previsti dei metadati mi dà un po' di perplessità diciamo rispetto anche allo spirito libero che poi mi avvicina al software libero è una è una scelta pesantemente vincolante e che raccoglie soprattutto una miriade di dati da da tutti gli utenti da tutti gli utenti partite IVA forse non tutti così necessari per combattere l'evasione fiscale ecco eh decisamente questa è la mia personale io condivido l'operazione sui metadati perché effettivamente eh secondo me se ne poteva fare eh a meno ma tant'è insomma siamo in Italia per cui diciamo siamo colpevoli fino a prova contraria no? ma eh la cosa importante è è comunque in questo contesto il tema del talk è quello della configurazione della corretta configurazione di O2 in questo contesto quindi il tema è non so se se l'ho detto abbastanza chiaramente credo di sì eh siccome dall'anno prossimo i dati della fatturazione elettronica eh verranno utilizzati un po' con l'idea di eh generare le dichiarazioni fiscali eh il tema del talk è l'attenzione alla configurazione perché eh bella o brutta che sia l'idea della nostra amministrazione finanziaria questi dati popolano eh popolano diciamo un mega database che dovrebbe produrre le precompilate IVA ecco quindi la nostra attenzione come con la nostra attenzione come consulenti quando il cliente ci chiede qualcosa eh è rivolta a questo beh cioè lo dobbiamo sottovalutare tecnico è importante anche diciamo la nostra percezione di quella che è il problema e come è stato gestito e risolto no? ehm una domanda dalla chat che leggo adesso si sa qualcosa riguarda una fatturazione elettronica europea? beh eh certamente allora eh bisogna eh distinguere bene eh le le norme europee da quelle italiane allora la fatturazione elettronica italiana è un'invenzione italiana che segue non tanto delle direttive europee ma una prassi che si era affermata più in Sud America che in Italia cioè quella di obbligare eh tutto il B2B cioè tutte le aziende che si fatturano reciprocamente indiscriminatamente alla fatturazione elettronica quando invece si parla di fatturazione elettronica europea eh ci si riferisce alla eh alla tendenza a un altro tipo di obbligo che in Italia anche era nato prima della eh fatturazione elettronica eh nei confronti della pubblica amministrazione quindi la fatturazione quando si parla di fatturazione elettronica europea non ci si riferisce al formato fattura PA che è quello che ormai tutti eh gli operatori contabili conoscono ma ci si riferisce normalmente a un formato eh UBL che è uno standard internazionale che non ha tanto lo scopo di combattere l'evasione fiscale ma quello di standardizzare la fatturazione a livello europeo in particolare per per le norme sugli appalti pubblici perché è chiaro che se se noi dobbiamo dialogare in termini informatici con amministrazioni di tutti gli stati europei e le amministrazioni con imprese di tutti gli stati europei ehm bisogna scegliere uno standard allora lo standard è stato ormai scelto stabilizzato a livello europeo eh e ci vuole ci vogliono delle delle scelte eh sono già state fatte delle scelte politiche per confluire in quello standard un tema per noi eh siccome appunto in Italia abbiamo uno standard italiano e l'Europa ha scelto invece eh contemporaneamente uno standard europeo a parte la mia personale eh disappunto perché perché l'Italia ha scelto proprio standard diverso da quello europeo e questo vale per un sacco di altri paesi ma chiusa questa parentesi un grande tema sarà quello di avere eh di fatto eh due eh due formati di fatturazione elettronica che potranno doversi coordinare no? E e che fanno però riferimento a due piattaforme diverse eh la fattura elettronica italiana allo SD e alla piattaforma dell'agenzia delle entrate la fattura elettronica europea al sistema credo Peppol e all'UBL e ovviamente l'amministrazione fiscale italiana ha già promesso e credo che abbia già realizzato delle compatibilità tra i due formati non so se facciamo magari magari delle domande più puntuali però il tema è questo cioè io ne ho approfittato perché so che sei una persona competente e preparata per cui ho fatto qualche domanda anche diciamo al di fuori della eh talk che era mirato alla configurazione su solo diciamo ho approfittato insomma della il talk cercava di eh predeterminare eh le questioni che potrebbero che potrebbero riguardarci nell'immediato quindi configurazione delle imposte e e completezza attenzione ai tipi documento forse anche un po' di più di quello che ho detto nel talk ma eh bisogna vedere anche cosa dirà l'amministrazione perché sapete che la nostra amministrazione finanziaria parla per circolari per esempio anche il tema della della configurazione del eh del documento di integrazione io non lo vedo così risolito anche se se già si può fare con un ruolo secondo me chiaro va bene allora io ti ringrazio ti rinnovo i complimenti tra l'altro qualcuno ha scritto credo davide che dovresti fare i corsi online perché sei stato in prima chiarezza c'era un po' di fatica legata all'argomento eh va bene dai però sei stato in gamba è competente come sempre io ti ringrazio ti ringrazio per aver partecipato a questi io due days e grazie a voi invece e grazie grazie a te eh Ivo mettimi in full screen eh siamo no 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 no